non vi perdete neanche un secondo e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale blog tutto wrestling channel che siamo sempre pieni di novità per voi iscriviti al canale iscriviti al canale ciao ragazzi ben ritrovati abbiamo un'altra chicca made in italy uscita fresca fresca dalle officine ivan 84 factory questa è la versione v3 dicono che non c'è il 2 senza il 3 e infatti prima ponti dritti poi ponti a portali e questo v3 hanno voluto concentrare tutto quindi un telaio studiato testato per poter montare i ponti a portale o ponti dritti e avere la massima resa i massimi le massime linee perfette per coprire le esigenze di entrambi i ponti che non è facile perché bisogna incastrare bene il tutto sembra che ci siano riusciti il modello è bellissimo fra l'altro mi è stato mandato che poi devo consegnarlo a giuseppe uno un nuovo acquisto del bloccatutto che ha subito voluto partire in bomba macchine top se ne ha già fatti due o tre di proto quindi abbiamo un altro avversario tosto per il 2023 ora vi faccio vedere questa questo nuovo modello v3 in questo caso con i punti aere 44 quindi dritti intanto lo andiamo subito a pesare nella mia bellissima bilancia da frutti vendolo come la tradizione vuole ok l'abbiamo appoggiato andiamo a vedere un po un chilo 7 10 spettacolo un chilo 7 10 quindi completo diciamo di tutto manca solo la batteria la carrozzeria e le ruote partiamo dal fianco vi faccio vedere questa bellissima linea del nuovo telaio che come abbiamo detto si presta bene per i ponti a portale e anche per i ponti dritti quindi due piccioni con una fava come si dice in questo caso abbiamo i ponti ar 44 axial ormai un classico usati da un sacco di gente sono sempre attuali e sempre performanti potete vedere i classic amortizzatori traxas big bore con le sue mollettine dedicate i link sempre fresati dal pieno fatti dal nostro buon ivan su misura precisi puliti torniti alla perfezione adesso vi faccio vedere anche il supporto servo anteriore che come lo trovate anche come optional e anche degli altri modelli versione precedenti è ultra ribassato talmente ribassato che anche la barra sterzo viene piegata all'insù per riuscire a farla lavorare in maniera ottimale adesso vi faccio vedere anche la sterzata tutto perfetto vedete i link rimangono belli paralleli quindi abbiamo la massima spinta e poi c'è il ricollocamento dei link anteriori superiori come succede anche dietro quindi ribassato e arretrato spettacolo poi adesso abbiamo questi pezzettini gialli che saltano all'occhio e anche questa è una piccola novità di questo nuovo modello v3 ovviamente il parerutino che ormai richiedono tutti i campionati che abbiamo in giro per l'italia e all'estero quindi parerutino più largo dei longaroni con un tubino spettacolare in carbonio adesso ve lo volevo far vedere da vicino se mi metteva fuoco un tubino in carbonio spettacolare abbiamo un servo gfrc e anche lì ormai sappiamo che roba prova di bomba il porta lipo incassonato nel telaio vedete ha le due linguette quindi senza viti senza niente lui sta chiuso lì dentro al telaio col suo velcrino ok che tiene chiuso alla pila poi abbiamo il supporto carrozzeria anche questo stampato di questo bel colore giallo accattivante che fa l'alloggio anche dell'elastichino famoso vedete addirittura anche con lo spessorino in alluminio dentro per fare un appoggio perfetto questo non fa altro che limitare l'escursione del ponte vedete che figata ok lui lavora poi quando siete in salita si allunga ma abbiamo anche la resistenza dell'elastico quindi vi si allunga meno velocemente e nel tempo che lui si allunga tutto voi avete già scavalcato l'ostacolo o almeno si spera poi passiamo al coperchietto della trasmissione anche questo nuovo forse l'avevate già visto con il supporto vento l'integrato bellino anche per far star fresco il motorino anche in condizioni climatiche delle peggiori tipo luglio agosto sotto 40 gradi voi potete darci del gas a manetta anche nelle condizioni più ostili e lo stesso coperchino porta adesso lo giro ve lo faccio vedere già il porta esc vedete a quelle nicchie dove dentro ci sono le viti della trasmissione quindi è avvitata la trasmissione ribassatissimo perché è praticamente appoggiata al cardano sotto e quindi avete la esc in posizione vicino alla batteria quindi i fili si tengono più corti possibili vicinissimo al motore quindi anche lì i fili non andranno allungati e quindi si occupa meno spazio possibile a favore di una bella pulizia sul modello vedete che spettacolo poi dietro abbiamo la piastra fatta come il porta batterie quindi sempre senza viti ma solo con le linguette incastrate nel telaio in questo caso ospita un bel servo verricello di quelli tosti con lo sgancio addirittura con lo supportino filo inclinato vedete con la boccolina in ottone poi il filo passa lungo al telaio e va a finire nell'uscita che è stata ricavata sempre dal paraurti sempre con la boccolina in ottone vedete è uno spettacolo come tutti gli altri modelli come vi ha abituato Ivan benissimo fino adesso è tutto calcolato nei minimi dettagli nei minimi spazi che spettacolo poi dietro abbiamo la barra di torsione che c'era anche nelle precedenti versioni ma in questo caso sono stati rifatti i coltelli perché ormai roba standard non si trova niente di che in produzione allora ha deciso Ivan di ha avuto il telaio scusate se ogni tanto manco il bersaglio ma con lo zoom non ci si regola bene della profondità delle immagini vedete la barra passa qui dentro ovviamente quando il ponte va in twist lui trasmette il carico dall'altra parte e tende ad accovacciare tutta la macchina quindi la macchina accovacciata dritto ovviamente vi da una spinta in avanti migliore piuttosto che avercela con il ponte storto anche dietro c'è il supporto link che ricolloca l'attacco dei link superiori fa da gancio anche qui per l'elastichino stessa alla stessa maniera di come anche davanti sempre col suo appoggino d'alluminio ovviamente avete visto che anche dietro qua l'effetto tetta nel parmigiano sanno cosa vuol dire vedete che spettacolo non bisogna insegnargli niente è una figata dai anche i pesi di dietro è roba diciamo commerciale ma è stata adattata ai ponti con questi supporti stampati in 3d fatti apposta vedete con le due vitine che fanno da morsetto e poi ci si va a avvitare il peso di davanti quindi è stato studiato nei minimi particolari vedete il cardano più alto dei link passa lì al centro perfetto è tutto studiato alla perfezione adesso ve lo faccio vedere anche sotto andiamo a vedere la skid che anche questa è stata ridisegnata come potete vedere con l'attacco link centrale vedete ha visto che sopra i link sono stati allargati per la legge dei triangoli che anche qui non voglio fare allusioni ad altre cose per la legge dei triangoli per avere il ponte che sta sempre bello fermo un triangolo bisogna che sia bello chiuso e qui hanno preso la cosa la lettera quindi si parte largo dal ponte si va a chiudere al centro così sopra si hanno i link più larghi e si ha modo di avere più spazio per l'elettronica per la meccanica non avendoli tra i maroni diciamo e quindi ha chiuso il triangolo molto stretto sotto con questa nuova skid vedete bella arrotondata anche per per scavalcare gli ostacoli belli in linea col telaio le sue svasature per la trasmissione diciamo che tutto è collocato nella maniera perfetta poi sappiamo già che questi mezzi sono belli performanti si guidano bene e ovviamente vanno sempre messi nelle mani di piloti che che guidano è non potete pretendere che avvenga il miracolo ecco i miracoli non esistono se non ve ne siete ancora accorti nelle macchinine prima bisogna guidare poi la macchina buona ovviamente vi dà vi dà un ottimo e sostanziale aiuto però se non avete le basi della guida poi non vi potete lamentare che la macchina non va bene ok non vi offendete ma la realtà è questa ragazzi io andrei a versi saluti perché oltre il piccolo video che troverete adesso durante il video per vedere un po i comportamenti mi hanno già detto che si comporta già un po meglio più neutre più facile da guidare rispetto le vecchie versioni ovviamente le nuove versioni si fanno per migliorare le vecchie se no non si starebbe neanche impastire a sviluppare cose nuove quindi qua dal bloccatutto garage vi salutiamo con questo ennesimo gioiellino made in italy di ivan 84 factory lo potete contattare come vi abbiamo sempre detto su instagram su facebook e vi risponderà in velocità supersonica e vi consiglierà anche lui la cosa giusta per le vostre esigenze dal semplice accessorio al modello intero come avete visto in questo video siamo arrivati ai saluti finali anche perché una vocina mi ha detto che sono pronti i cappelletti quindi non li vorrei mangiare freddi quindi davanti ai cappelletti non c'è scaler che tenga si va si va a tavola ragazzi vi saluto spero che questo nuovo mezzo vi sia piaciuto il video ovviamente vi sia piaciuto vi invito ancora una volta iscrivervi al nostro canale timblocatutto racing channel che non basta che guardate i video se vi iscrivete diventate parte di questa famiglia quindi quando c'è un video nuovo vi arriva la notifica vi si accende la campanella e pensate c'è un altro video di quel pattacca romagnolo chissà che cacchio si è inventato questa volta e così andate a vedere aiutate a portare avanti tutta sta baracca di scaleristi pazzi vi saluto io vi saluto anche a nome di Ivan con la bella tovaglia spettacolo e uno e due e tre e ciao iscriviti al nostro canale